Tra i giovani della Bovisa c'è un signore, Romano Bignozi, che li guida. Fa parte, a buon titolo, della Expo Generation e noi vogliamo presentarvelo. Lei è il maestro di questi giovani? Io sì, vengo chiamato il maestro, diciamo soprattutto perché sono più di 50 anni che lavoro nel ramo delle costruzioni. Le ultime costruzioni che ho fatto sono stati sette anni sulla Milano-Bologna, alta velocità, cinque anni ultimamente sulla Valdastico, che è l'autostrada che va da Vicenza Rovigo, dopodiché l'ingegner Gorini che conoscevo perché siamo stati colleghi sei anni in società Itastrade e mi ha chiamato per venire qui in questo bellissimo lavoro a fare la valutazione dell'opera. E a questi ragazzi lei cosa insegna? A questi ragazzi ho insegnato delle cose abbastanza pratiche, di mettere diciamo in opera, a disegno e con le loro capacità che ho visto che sono molto abbondanti, la mia pratica. Com'è questa esperienza? Questa esperienza devo dire che mi è molto piaciuta, è un'esperienza che avevo già in parte collaudato tempo fa perché ho sempre avuto dei giovani da allevare, direi che da parte di personaggi come me li considero un dovere, un dovere che deve assolutamente avere una certa importanza, cioè io trovo assolutamente necessario che questi figlioli che iniziano il mondo del lavoro devono entrare in un mondo che a un certo punto dopo un po' di anni sono loro che lo guidano. Il mondo del lavoro ha questa grande necessità e ho visto che una mancanza in questo momento che c'è nel mondo del lavoro manca il desiderio di insegnare a questi giovani. Lei come si immagina l'Expo che uscirà da questo lavoro? Ma io sono abbastanza, lo dico spesso, sono abbastanza contento di questo lavoro, sta venendo fuori un lavoro direi ottimo. La cosa che mi preoccupa è che devono ormai, visto che sembra che il desiderio di farlo ormai è vinto, quindi hanno avuto questa benedizione e a questo punto bisogna lavorare seriamente e penso che le carte le abbiamo.